Il Trentino abbraccia la nazionale di scherma, Folgaria, ospiterà infatti dal 12 al 19 giugno il raduno di preparazione verso gli europei di Cracovia e i mondiali di Milano, il più importante allenamento collegiale azzurro delle sei armi, spada, fioretto e sciabola sia maschile che femminile, di questa stagione sportiva. Il training camp Trentino rappresenterà l'appuntamento decisivo di rifinitura per le squadre della Federscherma all'alba dei campionati continentali e i ridati. Folgaria ha messo a disposizione le strutture e più in generale le condizioni per accogliere tutte e tre le nostre squadre nazionali in un momento così delicato della preparazione e della stagione, quindi veramente da parte nostra c'è l'auspicio che questo evento sicuramente importante possa essere il punto di partenza di un rapporto di collaborazione e di partnership. I CT Stefano Cerioni per il Fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola insieme ai rispettivi staff lavoreranno con 24 atleti per ciascuna specialità equamente divisi tra uomini e donne. Si tratta di un raduno congiunto inedito e affascinante perché tutte le nazionali si ritroveranno insieme per preparare gli appuntamenti più importanti della stagione quest'anno dal valore doppio in quanto di qualifica all'Olimpiade di Parigi 2024. Grandi aspettative sono nelle cose quando si parla della scherma italiana, poi al di là anche dei titoli, delle medaglie, qui la cosa che viene davanti a tutto è la qualifica olimpica. Sappiamo che l'Europeo e il Mondiale sono le svolte decisive, poi ci sono anche altre gare, la qualifica è lunga ma sono i due eventi che fanno la differenza, specialmente per chi come noi punta ovviamente alla qualifica di squadra.